Con l'arrivo della primavera e con le belle giornate che rendono ancora più spettacolari i suggestivi panorami dell'Isola Verde, sono riprese le registrazioni delle ultime scene di Ischia Forever, la fiction televisiva ideata dalla cabarettista napoletana Lucia Cassini, che oltre al compianto Carlo Croccolo vedrà in scena attori famosissimi come Gino Rivieccio, Francesco Paolo Antoni, Enrico Beruschi, Massimiliano Buzanca e altre new entry che saranno svelate prossimamente. Si tratta di una fiction al centro della quale c'è l'Isola Verde. Siamo dire, non è che delle scene nuove, con dei personaggi nuovi e chiaramente c'è questo mio ritorno a Ischia, anche a ritorno a mio marito, perché lui nella fiction fa la parte di mio marito e ci siamo litigati per via di questa eredità, però basta, non possiamo dire molto. E quindi adesso cerchiamo di... non ci può dire. Boh, non si sa. Una fiction divertente al centro della quale c'è il tuo amore per l'Isola di Ischia. Al centro della quale c'è proprio Ischia, perché io vengo a Ischia da quando avevo sei anni, fatevi voi i calcoli. In questi giorni ho anche trovato le fotografie di mia cugina e l'altra cugina che mi portavano a Ischia e ho trovato la fotografia che si imbraccia al Fosso Siciliano. Pensate un po', bellissime sono, perché venivo con loro. Io già cantavo, c'era Mereo Variante, Fosso Siciliano, Calise, io sono... E poi mi sono innamorata proprio dell'Isola, della familiarità che ho con quest'Isola, ma non solo di questo fatto che tutti quanti mi stanno vicino, eccetera. Ah, proprio del mio amore per l'Isola. In questi giorni a girare con la Cassini c'è anche Gino Riviecio, felicissimo di essere ritornato ad Ischia, isola che ama da sempre. Un pretesto per ritornare sull'isola, per riordinare le idee, per ricucire quei frammenti della fiction che avevamo dovuto interrompere per motivi facilmente intuibili, perché abbiamo cominciato a girare molto prima della pandemia. E' un atto d'amore verso l'isola, verso Ischia, poi mi sento a casa mia, un'occasione per ritrovare un po' di amici. Abbiamo indovinato anche le giornate meteorologicamente parlando, perfette estive. Non stiamo a cà, ma sta la gente che si sta facendo in giù un bagno e siamo soltanto al 27 aprile. Lucia ha pensato da tempo questo lavoro, questa fiction, che appunto è un atto d'amore verso l'isola e che vede tanti amici colleghi impegnati come Francesco Paolo Antoni, come il compianto Carlo Croccolo che aveva cominciato appunto a girarla e tanti altri. Quindi è stata una bella occasione per ritrovare tanti amici qui sull'isola di Ischia. Tra le new entry del cast di Ischia Forever c'è la presenza di Salvatore Di Scala, il ristoratore ischitano famoso in tutto il mondo per il successo che da anni negli Stati Uniti ottiene il suo ristorante e pizzeria Naples 15, tra i campioni dell'NBA e i personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura statunitense. Salvatore, nella fiction, veste i panni dell'impresario. Salvatore americano, il nice to meet you, l'impresario? Yes. Lui è l'impresario, capito? No, non è un baricardo. No, non è un baricardo. Enzo, Enzo. Enzo, bravo Enzo.